Inizio dicendo che l'altro anno, il 6 giugno, ho compiuto 50 anni. La cosa bella però, in realtà, è che esattamente tre mesi dopo, il 6 settembre, sono diventato papà. Grazie. Lo dedico tutto a Tommaso, mio figlio. Sono diventato papà e... Scusate, sono emozionatissimo. Mi ha cambiato totalmente la vita, perché, non so, qualcuno di voi magari è papà, altri no. Comunque è un'emozione grandissima, ti sposta davvero il baricentro, perché diventi papà quando nasce, ma poi è tutto un divenire, giorno per giorno scopri come è tuo figlio, come cresce. Come dire, è una roba che ti porta ad emozioni fortissime. Scusate davvero, però sono... Grazie. Non so, forse è una cosa anche normale, ma trovo che creare una vita, mettere una vita, sia davvero in qualche modo divino. E sono qui per raccontarvi quanto mi sento ringiovanito e quanta voglia ho di... Quanto voglio di... Quanto voglio di... Eh, voi ridete! Ma io non ce la faccio più! Non dormo più! Ogni due ore! Mua! 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 Cacamarza! 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 Tutto così! Per non parlare della mia compagna, è diventata una femmina di t-rex adulto! E perché fai così? E perché non hai fatto così? E perché lo metti lì? E perché non l'hai messo lì? Ma cosa vuoi della mia vita? Cacamarza! Cacamarza! Ma... Quanta gnocca in sala! Grazie davvero! Siete meravigliosi! Ma non vedo l'ora di... Non vedo l'ora di... Non vedo l'ora di... Tornare a casa ad abbracciarlo perché avrò un figlio! È la cosa più bella che mi sia capitata! Bello! Volto a ridere! P finden da una famiglia... Eh... N race a ind wokSpello! One day a ważne di ac華�ening! C'era le fauve di acque sapice, per favore! No ok? Ma non vedo l'ora di acque, per favore! Siamo ancora rispondanti! Siamo ancora rispondanti! Ma non vedo soli di acque... Ma non vedo l'ora di acque, per favore! Ma non vedoci l'ora di acque. Ma non vedo l'ora di acque l'ora di acque davai! Grazie a tutti.